Come nei migliori gialli estivi, questa volta è caccia aperta all'Arsenio Lupin locale. Con un po' di ritardo si scopre che alla Regione Puglia sono spariti dai muri degli uffici dei palazzi istituzionali e degli assessorati 155 opere d'arte, il cui valore complessivo è pari a circa 125.000 euro. I quadri sembrano spariti nel nulla, a giudicare dall'inventario fatto di recente dall'ufficio economato della Regione, che fine hanno fatto le tele e acquistate con soldi pubblici, rimane ancora un grosso mistero. All'appello, anzi all'inventario, mancano 148 tele, 5 sculture e 2 affreschi. Non si tratta di capolavori di particolare pregio, ma di opere che risalgono al periodo compreso fra il 1939 e il 1986. Del furto, se preferite della sparizione, se ne stanno occupando i carabinieri. Dopo la denuncia presentata il 5 agosto scorso, i militari dovranno accertare se le opere d'arte sono state spostate altrove o se sono finite nelle case di qualche collezionista e di come sia stato possibile portarle via. Per il loro ritrovamento si confida nella capacità del nucleo specializzato TPC dei carabinieri. Non è il primo caso di sparizione di opere d'arte dai palazzi istituzionali. In passato è accaduto anche all'ente provinciale del turismo di Bari. I furti di beni culturali registrati e denunciati nell'ultimo anno in tutta la Puglia sono stati 31, di cui ben 8 ai danni di enti pubblici, 13 in istituti religiosi e luoghi di culto, 10 in abitazioni private. I ladri di opere d'arte preferiscono soprattutto le pitture, a seguire altri articoli tra vasellame, reperti archeologici, sculture e oggetti religiosi.